Ciao sono Rita Crutturice del blog di Rifugio Perfetto, bentornati sul mio canale e un grazie di cuore a tutti i nuovi iscritti. Il video che sto per mostrarvi ora è il primo di una serie dal titolo Rifugio risponde, che sono dei video creati per rispondere esclusivamente alle vostre domande. Vi leggo ora il mail che ho ricevuto. Mi scrive Alessandra, Ciao ho visto il tuo canale e l'ho trovato interessante perciò mi sono iscritta, grazie Alessandra. Siccome ho visto che in un commento ho dei stili a cui email ho un'iscritta per eventuali richieste, beh io ti iscrivo proprio per questo. Volevo chiederti se ti era possibile fare un video su come sistemare un divano con il copridivano di sfatto e renderlo bello liscio e ordinato, grazie in anticipo. Allora Alessandra per rispondere alla tua domanda ti mostrerò come sistemare i due modelli di copridivano che troviamo più comunemente in commercio che sono uno elastico universale che si adatta a quasi tutti i tipi di divani e l'altro che è il classico copridivano. Iniziamo col copridivano elasticizzato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.